Con la tradizione cristiana la Befana non c'entra niente, ma nella tradizione popolare c'è una leggenda che in qualche modo la inserisce come protagonista di questa festa religiosa. I re magi stavano andando a Betlemme per rendere omaggio al bambino Gesù. Giunti in prossimità di una casetta decisero di fermarsi per chiedere indicazioni sulla direzione da prendere. Mussarono alla porta e venne ad aprire una vecchina. I re magi chiesero se sapeva la strada per andare a Betlemme perché là era nato il Salvatore. La donna che non capì dove stessero andando i re magi non seppe dare loro nessuna indicazione. I re magi chiesero alla vecchietta di unirsi a loro ma lei rifiutò perché aveva molto lavoro da sbrigare. Dopo che i tre re se ne furono andati la donna capì che aveva commesso un errore e decise di unirsi a loro per andare a trovare il bambino Gesù, ma nonostante li cercasse da ore non riuscì a trovarli. Allora si fermò ad ogni casa lasciando un dono ad ogni bambino nella speranza che uno dei bambini in fasce da lei omaggiato fosse Gesù. E da allora continuò per millenni. Ogni anno, la notte tra il 5 e il 6 gennaio, a cavalcione di una scopa, passa sopra i tetti delle case e calandosi dai camini distribuisce nelle calze lasciate appese dai bambini giocattoli, cioccolatini e caramelle per chi è stato buono, carbone e cenere per chi invece ha fatto il cattivo. Ricordate bambini, è tradizione lasciare alla Befana un piattino con un mandarino o un'arancia in modo che si possa rifocillare.